Solo a tassali, solo a tassali, solo a tassali, panno su, solo a tassali, e tinkusali, su. La gente ha elaborato un rato e priorità nel equivocato del governo. Abbiamo notato nel medio di comunicazione che il governo ha deciso di prendere 2.4 milioni di flore di destino per un progetto per abriolo solo, per le persone che sono speciali in Aruba, e prendere 2.4 milioni di flore di destino per abriolo solo per comprare una camera di sicurezza per chi è. Ora, naturalmente, nessuno ha discutito con la camera di sicurezza che è importante. Talvez ci hanno dimenticato se può essere 2.4 milioni per alcune camera. Ci hanno visto con 400 mil flore di destino per un sistema di monitorazione suficientemente buono di un altro, che è per qui con 2.4 milioni. Però per me, per me, è priorità nel governo. Con un viaggio a più, il governo ha scoperto per non scegliere la camera di destino per questo mese, ma anche per quanto riguarda l'assistenza, sostegno e cuido di essere speciale. Qui ci hanno scoperto per non scegliere la camera di destino per non scegliere la camera di destino per non scegliere la camera di destino per non scegliere la camera di destino. Un chumarded anche per non scegliere il 바뀌o di blu. 2 milioni di brano di questi belli di destino per non dormire in quanto riguarda i nostri cor Offetici di strumenti maravano. Ma trovi che la tua scuola è stata una nuova scuola nel nord, ma anche da una scala di priorità causa di un altro cammino che sta a 2.4 milioni di florini. E parla, circa dopo erano i Cinta, dove si ferma la scuola e le sulle posizioni andate sul nord. Lei è stata la scuola nel nord, perché non ho bisogno di una scuola in scuola in nord, di educazione del popolo qui va traslare un tramo. Anche se non c'è metà della placa, un anno e un anno c'è una metà della placa, e anche se non c'è un progetto di tramo che va a fracassare e non c'è una scuola nel nord. Anche questa è la priorità di equivocare il governo qui. Anche se non c'è la gente che abbia un pezzo che dice che il governo qui abbia il deficit, cortando il sostegno di gente in speciale in Aruba, non c'è la gente che sta per governare il paese, non c'è la gente che abbia il deficit. Governare che non c'è una priorità, ma c'è una priorità nel essere umano. E noi stiamo investigando qui a fondo, perché non c'è un progetto per aiutare le persone in speciale in Aruba, il governo dice che non c'è la gente che abbia un progetto di 2.4 milioni, per invertire in un progetto di camera di supervisione a KIA. Qui io mi所 abbia, un progetto di servizio, è un progetto di servizio non il progetto di servizio di teachers. Il governo mi Che abbia un progetto di servizio di servizio di servizio di servizio di servizio che finanziariamente. Non si va a investigare con questo, ma non si va a accepter. Un altro esempio di priorità non è equivocato il governo. Questo è il caso di Saba. Mi ha fatto una nota del medio di comunicazione di un articolo che dice che il Saba è malcontente con la scassezza del personale e la promozione che si va a prendere. Se il Saba, che ha il cuore dei nostri grandi, si va a prendere la scassezza, non ci si va a prendere il cuore dei nostri mestri. Il secondo il nostro cittadino che fa parte di un articolo che dice che Secondo l'articolo che non è conclusione, è ora di sabato, è che questo è che sta affettando il livello di qualità di servizio, e che questo è che ci pone che non è opportune più clienti, e se non ho bisogno di essere a porta, o se non ho bisogno di avere più medie. Perché il governo non sta donando il subsidio che mi serve in sabato, è che la conseguenza è ora, che sta affettando la qualità che è che non mi serve in servizio, che non mi serve in servizio, che non mi serve in servizio, ma non è grande, non voglio, ma non mi serve in servizio, e che non mi serve in servizio, se non mi serve in servizio, c'è un'articolo di 150 persone che stanno guardando un luogo dove cazano di cuida di sabato. Quindi, non mi serve in servizio di sabato, perché il governo non sta donando il sabato, il suo subsidio che mi serve in sabato. Quindi, se non mi serve in servizio, il governo di Mike Eymann promuovano? E come, questa spettaccia, ha fatto anche il國 che mi serve in servizio, ma non mi serve in servizio? È un abuso di grande. È un abuso contro ciò che accriano il paese, contro ciò che mi serve in servizio, ciò che si non mi serve in servizio tra le loro Chinese. che non sta condenando, non sta qui con il problema che il governo non sta cumplendo con lo che si tratta, non sta qui con le pregunte e pura di rai la informazione ma sono cose che non sono totalmente non sono acceptabili e non sono non sono accepti nemmeno. Basta non battere il pezzo con il nostro deficit, basta non battere il pezzo con il nostro barro per l'alante, non può maltrattare e abusare di noi grandi non sono umbrellare di solo. Ogni toxicante l'alto a fare non ti ci sono i nostri spettori con i nostri spettori ci sono i nostri spettori con i nostri spettori come concerned proalto le spettori la sua parteCamp liked allora il nostro Syria che non ti rompe. Il prossimo tema, come chiede a parlare, ha di avere con il ministro Otmar Odeber. Non si tratta di notare di alcun sviluppo di ministro Otmar Odeber. Si tratta di notare che il 26 di anio, il ministro ha entregato una carta di retiro al governatore. D'altra carta di retiro, il ministro ha detto che non chiede il ministro. E la carta di retiro ha detto che il Parlamento è una carta di ritorno, ma non per ritorno. Ma il trattato si è la trasparenza, ora che la sale fuori il gabinetto di governatore, va declarare a Chico a conduzire in sua decisione di ritorno. In corto, è la visa che non può seguir come manese di turismo, guardando quanto criminalità in Aruba e guardando la falta di mani e visione di manese Arthur Dowers e di terreno di criminalità. Il ministro Otmar Odeber ha detto che non può essere come manese di turismo, ma sobra il ministro Dowers, non c'è un mani, il ministro Dowers ha fatto. E non è la agenda Dowers, è la sigla. È la visa che non può essere come manese di turismo, ma se il ministro di finanziare non c'è la parola che non c'è la parola. Come il ministro Bermúdez, non c'è la parola che non c'è la parola che non c'è la parola. Non c'è la parola che 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 non c'è la quella attribuendo al signor Mike Eamon. Inizia anche, ha menzionato la sua mamma, la sua tata, la sua casa, la sua junina, la sua vita è emozionale, la sua stessa tembla. E tutti i nostri amici hanno ottenuto un giorno serio, il 16 di anio, e tutti i nostri amici, che non si chiede per me, pensano che sia una persona di principio. Ora ho menzionato la sua mamma, la sua tata, la sua casa, la sua junina, in una forma emozionale così, e poi ho parato, tra i 16. Inizia anche, la sua mamma, la sua casa, la sua junina, la sua emozionale, non si è rilevante più. Come la sua dover, non si serve, non si è rilevante più. Come la sua Bermudas, non si cumple, non si è rilevante più. Come la sua Rui Burr, non si sostiene, e come la sua Mike Eamon, la sua famiglia, come leader, non si è rilevante più. Ma il signor Otmar Odibar, ha avuto un convegno, con il suo collega ministro, con il Doherz, con il Michele Rui Burr, con il Bermudas, con Eamon, che ha avuto un convegno, con il ministro Otmar Odibar, che non si è rilevante più, ma si è rilevante più buono. e per me cosa, che è rilevante più, che sa che c'è la credibilità di un gente, però non è il mio asunto, è dubbale di credibilità, del ministro Otmar Odibar. Paolo, che va per lo seguente, il ministro che è entregari retiro, basare in alcun dolore della comunità, posso, come il Doherz, affaia barbaramente, e non può essere il paese che è sicuro, non si è rilevante di accordo. Come il Bermudas, c'è un problema per avere un mese, ma la parola finanziaria, non si è rilevante di un'interazione, ma il corso, non si è rilevante di un'interazione e di un'interazione speciale. Come il ministro Royburn, come il ministro di insegnanza, si è rilevante di un ECH, e come il ministro Mike Eymann, a fare come leader, e se è rilevante di accordo, non ci sono un leader, che lavorano in televisione, e non si è rilevante di un termine. Però, lo che è importante, di cui è che il convegno è? Il convegno è che il più importante, è il programma di governazione dell'AVP. Cada partito regana un'elezione e del governo, e il Parlamento presenta il suo programma. Il Parlamento presenta il nostro programma. Il Parlamento presenta il nostro approvazione. Abbiamo un convenio riguardo il programma di governazione e noi pensiamo che è il suo convenio. Noi pensiamo che cambia il programma di governazione. Noi pensiamo se il ministro Dovers è barra a cabeça o se il ministro Otmar ha barra a cabeça. Se il ministro ha raggiunto il governo non serve o se il ministro ha raggiunto il governo. Non ci sono un ministro di lavoro. Noi pensiamo se il ministro è barra a cabeça o se il ministro Otmar ha barra a cabeça o se il ministro Otmar ha barra a cabeça o se il ministro Otmar ha barra a cabeça e se il ministro è un buon leader. E se non ci sono importanti per noi. Non è questione di credibilità di Otmar e Otmar se non ci sono le cose che rendono. Non è questione di problemi all'interno del FPP se non è un assunto. Il ministro di un Paese è governare. Un tempo per il raggiungere, che il raggiungere, che il raggiungere, non è che il ministro è un convenio, ma è un punto importante per cui ci sono importanti se il ministro di un ministro di un'istituzione. Il ministro di un ministro di un ministro di un'istituzione Questo è un po' di pensare che il ministro Michel Roy Burwin è cooperato nel sostegno. Questo è importante per noi. E noi non lo facciamo. Durante il trattamento di presupposti, per arrivare qui, con la parola di carta, non lo facciamo. Non lo facciamo. Se tu non è possibile, per arrivare qui, con la parola di convenio, per sobrerci un programma di governazione approbato al Parlamento. Per arrivare qui, con la parola di convenio, è chiaro che il Parlamento e il popolo deve essere qui, con la parola di che. Se non lo facciamo, non lo informa al pobolo. Se c'è un asunto interno, perché il governo è un dramma, che quasi si chiara, è che il pobolo è un pobolo. Se il governo è un governo, non mi piace mai fare la sua cara, la sua cara è una cosa, non mi piace, 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 ma non mi piace, ma non mi piace, ma non mi piace. Però, si è un governo, si tratta di segurezza, di criminalità, si tratta di finanza pubblica, si tratta di insegnanza. E c'è un problema. Se c'è un asunto interno che il nostro partito, se c'è un asunto interno che il nostro partito ha, il nostro partito metto il nostro asunto interno, il PP ha il suo asunto interno, il nostro partito ha. Il nostro partito ha. Il nostro partito ha il suo partito, Di Pueblo ha il suo istante, il nostro partito ha. Il nostro partito ha il suo asunto interno. Guarda, per esempio, Babu, ma s'ilessere, ci sono state di domani per combattere la criminalità. Per dare, non ha parlato. O il Parlamento sta a parlare. O se non ha parlato come Ministro Otmar Odiberta, ma che sta a fare di atta, ma che è mai che da scendere, che non ci sono in casa di Pueblo. Non è interessato che è soluzione che non arriva al lì. Se si tratta soluzione interesse di Pueblo di Aruba, non è interessato a che Otmar Odiberta e Artur Dowers non ci sono saluto da un'altra ora non passa, per lavorare. Il pubblico non è interessato quando hai una riunione, mentre hai una riunione, mentre hai una mamma, una casa, una iu. Questo non è interessato al pubblico. Questa è la parola. Ora, la parola è una parola. Se il pubblico, 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 non ha mai parlato con il manejo del paese. Il pubblico, proprio che ci tratta di cosa personalale di ogni ministro, non è un'imagine che non c'è una cosa che si fa in una riunione, ci tratta di conoscenza. Però non c'è questo caso. Non mi ricordo che il pubblico, ma non mi ricordo che il pubblico, 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 se il pubblico, non c'è questo caso. a offender un familiare, diciamo, mi noto che ero sei. Abbiamo 7 giorni di tratamento di pressuposto e 7 giorni a lungo il nostro PDL per una cuenta. E la che è d'accordo, non ho mai avuto un menestro a tomar o di vero, è insicuro di questo mese, è ammietoso, è cobardia sinceramente. Ora qui abbiamo un'altra riunione, come il signor Presidente del Parlamento, abbiamo un'altra, e ora abbiamo una cuenta, diciamo, a voi si è in grana di una cuenta? Nossi a pidi durante il tratamento di pressuposto, tutti i giorni, e non so se posso fare una riunione, però tutti i giorni, sagratamente, per me, con una riunione, con un'altra, mi sono andata a pidi un punto di orto. Tornate, sagratamente, ora la riunione, mi sono andata a pidi un punto di orto. Mi punto di orto, come chiaro, per il ministro, o di vero, spiega, e dà una nostra carta per chi che le vai a pidi il ritiro. Mi non ha la contesta. Siete di allargare la corretta per me, a voi, e che per me pidi un'altra riunione per me? Mi non ti chiede, è un ministro serio. E se hai tì, di aver con il ministro Dowers. Mi hai tommo noto da imprensa, ultimo dia, non con il ministro Dowers, a comissi un'ataque personal contro la mia persona. Mi sa come il ministro Dowers di un'crisi, con il gente non consegher, o non tu camina da consegher, e con la consegher, o apparentemente, con sattirare l'odore di Iverlino e Ivercruz. Nostro paese ha un problema di un'altra riunione, specialmente di un terreno di segurezza e criminalità. Sumamente serio. E soluzione non è difficile. Però mi hai una visione, una visione clara come che haci a ruba un luogo più sicuro. Mi hai una determinazione per ottenere la decisione mesura, per fare un luogo più sicuro. E mi hai una coraggio per combattere la criminalità con una mano dura, di verità. Se mi hai una visione, se mi hai una determinazione e mi hai una coraggio, mi hai una logra. per il ministro Dowers nel gabinetto Mike Eamon non ti ningun. Non ti visione, non ti determinazione e coraggio, non ti nada di c'è. E il articolo non ha qui di ministro Dowers che ti paga roupa e placa in una compania di mercadeo per sentire la lastra mi persona, personalmente. E il contenito di articolo non ti confirmami che il ministro Dowers non ti visione, che il ministro Dowers non ti determinazione per combattere la criminalità e che il ministro Dowers non ti coraggio. ma sobra oro che ti ho contestami e non ti contestami. E poi ci manda gente a corres kibicos e lastra a gente. Il ministro Dowers mi ha mandato un mensaje. Non perdere la energia in la lastra Evelyn Weavercruz, non ti crezzi di che. Non ti ha una energia purba di scape a qualcosa, di lo qual con la propria credibilità e haci a ruba un lugar più sicuro. Il ministro Dowers è stato buono di una compania di mercadeo che ti guardo pagare mille e mille di placi di pueblo per ingannare il pueblo. in un certo momento. Il ministro dice che ti contestano durante il tratamento di presupposto. E non è così. Allora, qui non ti ho appunto il ministro Dowers niente di GMS, non ti non ti interessa niente di lo che di trattare il ministro. casualmente, la pagina qui ti tratta di criminalità di un'altra pregúntano da diregire con nostra parà na OCI, con nostra parà con la voce d'Aerat, con nostra parà con Imelda Hoff, che con noi stai facendo fortificare le istanze in cui aiutano a combattere lo che tratta di criminalità per i giovani. E la contestano per scritto che ti va contestare durante la riunione. Ora è il momento di contestare durante la riunione sette giorni a largo con noi stavano nel Parlamento tutti i giorni di MAP e il ministro dice che non ho capito di contestare ma persona che non ho capito di me. Ainda mi ho expliqué, i ministri di MAP non ho capito di una persona però le pregúntano che ti va a avere con il buon manejo e con il Departamento non ho capito di così non ho capito di non. E ti va a avere, secondo l'articolo romano 3 numero 17, ti va a avere come ministro per contestare. E questo è questa storia del Reino come il primo ministro di Justicia che ti va a trattare nella Costituzione. Se i ministri vengono a trattare nella Costituzione che ti va a trattare nella Costituzione che ti va a trattare nella Costituzione che ti va a trattare nella Costituzione. A voi ammettere la Costituzione. Invece di gastare buona energie e la placa di Pueblo per compagnia di mercadello qui attacando a noi, che la placa non ha purba sia la roba ma sicura. Che buona energie deve essere la roba ma sicura per noi. Il problema non è in nostro paese è un hobby serio. Per la soluzione non è difficile. per la soluzione non è in nostro paese. Per la soluzione non è in nostro paese. ma per i sei anni allarga non è fronteira non è la randona che sta a sbentare per l'arma che è da un'arma non è in nostro paese. Non so ne ho idea di quanto ammak di una roba ma ma anche se non si era una fronteira non è andata non è la possibilità per la propria. E come si pone la propria per la propria di andare in struzione? che il password è per la felicità di terrenza di al mondo del corpo di sicuro che si 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 per donare materiale e personali per quanto riguarda l'area turistica, per vincere la polizia, per avere una differente maniera di farlo. E naturalmente, Hilario, sempre ha costato quello che succede. Passato il tempo molto, ci ha costato quello che succede, ci ha crimini, ci ha assaltato, ci ha attrauto. Sin embargo, la differenza di tempo, è che la gente si sente insegura. Quindi, insegurità, perché non ha controllo. Quindi, se una polizia sufficiente, medio, mediano, materiale, e personali, potete cominciare a capire un buon cammino. Però, se non lo faccio, se, per esempio, potete do una cuore policiale, con una fraccione di AVP a PIN, con ammiglia per do una cuore policiale 650 mil florini, però, per chi, potete fare più propaganda? Assi, è una buona, è una cosa più sicura. Però, pensate, mi pensavo, se non so, parla di dire, un viaggio a Cava, il problema di criminalità in Aruba dà un risultato di diverso a un problema. Quindi, non ho bisogno di combattere il problema di cui è la raiz. Ora mi pensavo, non ho bisogno di avere un problema di criminalità in Aruba, ma non ho bisogno di avere un problema di cui è la criminalità in Aruba. No, non c'è un sistema in place, per sostener i aruba e evitare che non si è il malo cammino. Consecuentemente, ora, quando è un problema di avere un po' più grande, non ho bisogno di avere un problema di cui è la criminalità in Aruba. Non c'è un problema drastico di combattere la criminalità, è la raiz. E non ho bisogno di avere un problema. Solo ta sali, solo ta sali, solo ta sali, pano su. Solo ta sali, et in kusali.